lucio la cana questa sera al memorial per rebecca presente anche la lumaca una partita comunque molto diciamo basket d'estate anche per le due compagini aver giocato contro la palla canestro viola che impressioni ha avuto ma sicuramente è il primo incontro che fanno dopo due anni i miei ragazzi quindi tanta emozione per tutti un incontro affrontato con lo spirito giusto anche se siamo un pochettino sotto numero per diversi motivi fra cui questo benedetto covid che ci sta un po perseguitando anche indirettamente soprattutto indirettamente perché queste vaccinazioni chiaramente per i ragazzi non tutte le famiglie lo vedono come positivamente giustamente riconosco pure io l'obbligo chiaramente c'è quindi stiamo un attimino lottando per cercare un attimino di recuperare un po tutti i ragazzi perché qualcuno l'ha fatto oggi è mancato perché aveva già avuto reazioni al bacino e qualcun altro un qualche attimo a qualche sacco di primo di approccio alla stagione e quindi però non potevamo mancare da questo impegno soprattutto per una famiglia che noi conosciamo e che quindi avremmo avuto senz'altro onorare l'impegno fino alla fine i ragazzi l'hanno onorato anche sul campo che il risultato è stato pesante però hanno lottato non hanno mollato soprattutto negli ultimi 3-4 minuti che le condizioni climatiche da loro poco magari scarsa tenuta atletica hanno costretto un po a mollare però contenti perché la prima partita un gruppo che ha cambiato fisionomia quest'anno a cui si aggiungeranno altri ragazzi per affrontare il campione serie d il campione del 19 quindi con tanta voglia si riparte nella speranza che questa normalità ritorni al più presto possibile grazie mille grazie a voi